Questo ordine del giorno, come appunto è ricordato, votato dalla Commissione Ambiente, sappiamo che l'articolo 48,1 dell'attuale regolamento che radilibra l'Assemblea Capitulina 68 2011 prevede, come poi tutti ben sappiamo, la possibilità di far convertire il titolo autorizzativo, quindi la licenza per il trasporto per esercitare il servizio di trasporto pubblico non di linea mediante la trazione animale con la licenza per il trasporto pubblico non di linea mediante l'autopettura, quindi il taxi. Quindi questa è già una possibilità, uno strumento che è presente e quindi anche in virtù del, sempre parlando dello stesso regolamento, dell'articolo 4,1, comunque l'Aggiunta prevede la possibilità di erogare dei finanziamenti per i titolari di autorizzazione e licenza per sostituire la propria vettura, quindi abbiamo valutato anche che sarebbe stato opportuno impegnare la Sindaca e l'Aggiunta a valutare la possibilità di erogare anche per i vetturini dei contributi finanziari proprio per la sostituzione delle carrozze da piazza con le vetture da tibire al servizio taxi che ovviamente siano conformi alla normativa vigente in tema di antinquinamento. Grazie.